Se volete acquistare account o crediti food rivolgetevi a market food di cui trovate il link qui sotto in descrizione Vi ricordo inoltre che con il codice coupon FEDEMARCONI tutto maiuscolo, tutto attaccato avrete un 5% di sconto Bella ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, oggi siamo tornati con questo nuovo video Siamo in un pack opening come avete letto dal titolo ma è un pack opening diverso Perché oggi siamo su UTCOINBANK che è un sito che sicuramente molti di voi conosceranno Ovvero un sito online che praticamente ti consente di sapere cosa troverai in un pacchetto Ovvero come vedete qui abbiamo la possibilità per esempio di trovare sicuramente un if, sicuramente 3 if, sicuramente uno special if Oppure sicuramente un hero, sicuramente un motm, c'è il pacchetto da 4 tots e il pacchetto da 2 tots Quindi sappiamo il tipo di giocatori che troveremo, non sappiamo il giocatore che troveremo Per esempio i motm potremmo trovare messi come potremmo trovare Burakilmaz per farvi capire Quindi chiaramente è un sito che ti consente anche di comprare i crediti perché tu una volta che hai trovato il giocatore Devi dare i dati della tua console Xbox One o PS4 Dopodiché verranno inviati i crediti, quindi non il giocatore, per esempio trovo messi motm che costa 12 milioni Non mi viene inviato al club messi motm ma mi vengono inviati al club i 12 milioni Solitamente ci mette mezz'ora a milione quindi meglio che non troviamo i 12 milioni Però comunque diciamo che questo pack opening lo utilizzo per acquistarmi i crediti per il prossimo che farò sulla play Spero di trovare qualcosa, adesso non so quanti pacchetti apriremo Dipende da quello che troveremo Quindi partirei subito con il pacchetto motm che è il pacchetto che mi ha fatto trovare più big money E chiaramente qui dobbiamo fare il login per effettuare il pagamento E niente ci vediamo tra poco Ok una volta effettuato il pagamento e tutto vi verrà inviata una mail Nella quale dovete sia il link nel quale poi verrete renderizzati per acquistare il vostro pacchetto Sia il codice che dovrete inserire qui dove l'ho inserito io Poi dovete specificare se playstation o xbox Apriamo il pacchetto ragazzi vediamo un po' Deghea, Godin, un cazzo Oddio no Deghea quanto vale? Deghea quanto cazzo vale? Non l'avevo notato Non l'avevo visto Deghea quanto valeva regà Non ci credo Non ci credo Regà scusate l'esultanza un po' ritardata ma non avevo visto Deghea quanto valeva Mamma mia Cioè 2 milioni totali quindi Ovviamente vale solamente Deghea tutto Poi abbiamo Godin e Yup che valgono un cazzo Buono così regà Vabbè neanche un solo pacchetto Cioè con 20 euro per farvi capire su un sito qualsiasi di crediti Potete acquistarvi un milione E noi ne abbiamo presi due con solamente 20 euro Quindi regà Dai cazzo Io regà non lo so aprirei un altro motmo Perché alla fine è l'unico pacchetto in cui trovo qualcosa E alla fine per 5 euro in più ce la rischiamo Tanto altrimenti ho paura di buttare 20 euro Ok eccoci qui Pronti per arrivare il nostro secondo e ultimo pacchetto Io sono a posto già con il primo ragazzi Però vediamo un po' che ci prendiamo qua Perisic Cagliecon Chi cazzo è lungo? Si chiama seriamente lungo? Lungo? Sono il vostro test di motm Vabbè comunque Non ci lamentiamo È quasi un altro milioncino di crediti Quindi siamo circa 3000 crediti E quindi direi che ho anche acquistato già i crediti Per il prossimo pack opening ragazzi Vi saluto Per il momento è tutto Ditemi se vi è piaciuto questo pack opening Che ho fatto in edito anche Su Coinbank Ditemi se ne volete altri Visto che comunque si trova tanta tanta roba Aspettatevi a questo punto un altro pack opening Con pastarella Per riprovare A trovare uno tra Tevez Tots O Ibra Tots Io come ho già detto vi saluto Se non l'avete ancora fatto Vi invito a iscrivervi al canale Lasciate un like Un commento Ci becchiamo alla prossima Ciao a tutti